vai io mi do la carica con gabe ma se è vuto luca quanto è grave dai è una carica quella boh dio il leak ma si possono vedere le statifiche di questo si allea ah che può fare visualizzare oh buh un'altra opzione link esterno oh bello fai nel link esterno vediamo inizializzazione del tuo profilo costo recupero da chiamata amici io a 4 gol ma si vede soldato esperto di secondo grado bacca non si vede più in cazzo e che cazzo è nessun gioco preferito ah sotto sotto vai ah no campagne statistiche costuola ecco statistiche costuola appunto ci sono 1.68 cazzo dov'è dov'è eh scegli statistiche costuola e ti vede tutto quello che cazzo classifica statistiche dettagli 190 vittore sui 127 ma tu a che brei hai cliccato io ho booty leak come che si fanno a vedere queste cose oh eh viene andato sull'utente devi mettere visualizzare il profilo io non sto visualizzando quello di tuo ah ok vediamo 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 io sto guardando quello di Luca eh vedi un po' vai io vedo il tuo va perché non lo posso vedere guarda sono simpatici eh perchè? non sono simpatici oh ma che è successo io non ci sto eh eh pensare ma come sono uscito? ma come sono uscito? l'abbiamo vincato l'abbiamo vincato vediamo gli altri quanto sei tu Alec? eh me lo sto ancora a caricare il tuo che rapporto decisione c'ha il cazzo Alec? che c'ho? punto 35 ma chi è Osto? chi è Osto? allora tu non me lo dà devi pazientare chi è Osto? hai rotto il cazzo non lo sapea lui Budi Budi non lo vedi che c'è Budiulic Budi ah devo passarlo a lui? no ah non capisci Luca stai zitto una fai parlare Bruce oh ma io non so connesso speriamo Carlo speriamo Carlo visualizza Carlo visualizza Carlo niente e ne dimmi da Carlo perché fa cagare non è finito vediamo eh per ora Alec sa 2.56 eh credo che batta un po' il tuo ultimo clan war sei entrato Bruce? nooo non c'ho problemi nooo non c'ho problemi nooo non c'ho problemi nooo ma che bravo eh ma veramente fai ma veramente fai carlos fai a Bruce eh Carlo ma c'è 1.42 fai cagare ma io dico tanto io non c'entro non c'entro non c'entro non c'entro che devo fa? vuoi vedere il mio profilo? tanto te lo carica se sta più no ti ho detto di no ti ho detto non me lo carica visualizza profilo ghost bravo eh non me lo fa carica vediamo Mad Max io intanto sto vedendo gli altri eh il prestigio 5 che si fa tanto ecco pensa il prestigio 5 ha ragione Alec questo ha fatto 529 uccisioni e 616 morti ah raga ma certo ma qual è il prestigio 5 qua Luca? 0.86 oh quello là di Froome quello là che sta la che fa ma che no Mesh 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 ah prestigio 5 ahh sì sì ah è 2 ma non cva ma faccio la traspirare la grma vabbè la faccia cagare 4 a prescindere quanto ha? 0 con la grado 0 punto ? 0 punto a 3 fa più cagare di te ti mi chiacchia poi c'ho Budlik cancone Budlik c'ha quello c'è uno 68 già vista una 68 민 poi vediamo Riche carlo vuoi aprire un attimo mio che vedi un attimo porcarlo è aspetta sto guardando a gladiator ma vedi me cazzo che non so quanto c'ho chi me ne fotte di te lisce c'ha... lice lice c'ha vai lui parti aspetta 1.35 vabbè se lo fa oh regà è iniziata dai eh c'ha 1.21 vabbè dai si gioca vedi me vai bravo c'hai 0.6 chi? 8? quanto c'ho? 7.6? io c'ho 1.90 1.72 c'hai alza il collo alza il collo alza il collo l'hai alzato? mi vedi? dai va cagare ma scusa ma la partita è nostra non dobbiamo stare noi eh vabbè è successo da lui ma va cagare fammi passare lo stabile che so faccio ma a cagare lo sto io non sono loro vabbè facciamoci mettere i piedi in testo bravo che è il leader del cazzo oh alu sta zitto deve fare le foto ogni volta non mi riferirà alex stascia il play dai ragione ma io sto a fare la live su youtube salutate bravo bravo ma poi ci spigliano quelli ma chi ci spigliano prendi il tecnico che è che prendiamo il tecnico che era bannato sai che ti spigliano? ma male che l'avete detto prima ma quello poi lo prendi ma stavamo provando eravamo fuori già ma non è male ah raga sono passati tre anni dai eh la donna tre anni io sono passati tre anni ti mi fai emozionare però sono passati i cazzi sui subatte e fin sono passati tre anni bravo ragioni la l'ultima partita su posteriore non è vero ci hanno abbandonati su uncharted vabbè vabbè oh ma che c'entra su uncharted su uncharted e tolou non te l'avrei detta sta cosa sta cosa mi ha fatto spendere 70 euro quella merda che c'entra ah ok i soldi eh no dai dai vai chi viene si tronchi con me chi basi troppo io io vado dritto vediamoci al lavoro io vado dritto io vado dritto subito con Alex fammi avanza un po' Alex dimmi solo che il lato vuoi coprire adesso o sinistro tu della cassa dico è uguale andiamo a sinistra che te è brus anche asfalto io mi copro sinistra e sentinella raga fate bene al cambio dei droni eh ho avuto tutti fermi là sotto ah ecco all'istare là tutti fermi là sotto il tank è la nostra bravo è stato qui Luca 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 mi copri a destra vieni a Carlos Carlos vai raga voi ditemi se me ne avanza qualcuno a sinistra eh Alex io ti posso solo guardare la destra perché ah vabbè la sentinella è lontana dai io avanzo eh non mi frego un cazzo avanzo con cazzo Alex possiamo avanzare a destra lato destra mi fai mi avanzi a destra un attimo mi controlli a destra per avanzare a destra eh bravo perché avanziamo a destra non mi spiego cazzo cazzo no no Luca andiamo a destra andiamo a destra andiamo a destra però li devi spottare Carlos li devi spottare eh lui ci ha provato e quel napo mi ha detto guarda a destra dai a destra guarda andiamo a prendere la sentinella Lu dai dai vi avanziamo io Alex vai Luca ti devi sbrigare prima che attaccano Carlos da solo ah ci sono qua no io vengo dietro io vengo dietro c'era la sentinella da qualche parte qua aspetta io tra poco lo posso usare Carlo ci devi coprire con la scout un attimo vai vado col drone eccolo laggiù ok l'hai visto là Bru? ho visto un movimento eccolo eccolo aspetta te lo punto te lo punto vai la torre di ricognizione è online vai vai timo 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 Alex timo aspetta c'è quattro bravo chiuso dai rimane a testa rimane a testa rimane a testa la torretta facciamo scherzi eh o c'è uno davanti morto c'è pochissimo c'è pochissimo quello là Luca c'è pochissimo è l'assalto io uno e quince spugli Luca uno e quince spugli fai quello poi c'è uno e quince spugli bella Luca ciao 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 Carlo mi vedi da una mano mi vedi da una mano Carlo arrivo arrivo ragazzi ti amo servono i passi a Luca Carlo vai rimane a sinistra rimane a sinistra coprimi a sinistra Carlo ce l'hai sopra Luca è nel tronco è nel tronco è nel tronco ce l'hai sopra Luca sì sì ma fai vado col drone spot 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 cazzo voi si seriano ce ne hai due davanti ce l'ho vattene lui vattene lui vattene lui vattene lui Bruce siete pronti devo scappare devo scappare ce l'hai lì tu la locura eh lo so lo so devo scappare mi vado a curare Carlo mi vado a curare Carlo torna 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 Carlo porca puttana devi tornare Cristo se ti dico torna torna ma sottori cazzo torna ma che avanti ti ho detto torna ce l'avevo da solo ce l'avevo da solo cazzo l'ho detto torna porca puttana devo campare in casa non ha vabbè quanto va quanto va ce l'avevi una a destra ce l'avevi una a destra ce l'avevi una a destra lo so lo so lo so lo so tanto si va a curare eh quindi la prima che ti chiude cazzo cazzo quanto manca quanto manca quanto manca eh si lo devi tentare la fuga lui ci prova lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo fa' un culo porca puttana dai 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 lo ho disturbato lo ho disturbato dai dai io ci prova no cazzo ragazzi ca puttana un minuto e trenta un minuto e trenta vattene in fondo vattene in fondo si si ma scappa ditemi se lo vedete dietro eh ma non ce la faccio in un minuto la torre marca la lua magari dei disturbi eh che faccio devo scappare ragazzi si si devo prendere il pareggio un minuto ce la fai a prendere il pareggio sai carmi vattene proprio all'angolo più estremo magari non usci da la mappa non usci da la mappa non fosti scherzi no 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 quelli vanno tutti insieme comunque oh ma non la prende la torre l'ora pensano che stelle avvicini ah si si col cazzo e nel tuo cuore è l'angolo pure insomma il pareggio non succede niente no 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 attenta ai cerchionati eh infatti c'è sta la sentinella eh lui mette la roccia guarda 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 come arriva eh levati da là lui levati oh quel tronco oh levati levati sdraietti sdraietti meglio oh il tronco ragazzi ma scherzate il tronco non è meglio una roccia vabbè oh dai bravolo dai 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 che non so su un nabbi fidatevi su un nabbi eh lo so lo so uno contro uno e ho massacrati tutti uno contro uno erano due erano quel cazzo di avanzate di più a metà Bruce e te dobbiamo non andare troppo avanti rega voi due voi due dovete sta insieme siamo p'indietro bruce oppure aspettami perché hai visto che sei andato lì da sole io non c'ero è perché io non vedevo spottati c'erano i droni non li trovavo poi quando lo stavo guardando a destra l'ho visto all'ultimo con la cosa dell'occhio quello si però Carlo quanto ti dico a retro a retro è inutile che avanzi non te i cazzo sei andato in mezzo a me al brano c'avevo solo quello cazzo peccato che era il tanto eh no no devi ragionare dai devi arretare a lui io busco si si pure io vengo con te ah vede sempre di stare dietro di loro eh perché ragazzi il medico vedi serve cazzo ragazzi rimani sempre dietro bro dietro a tutti devi rimanere fanno a destra ok riposati via mi manca la sentinella non la vedo la sentinella non la vedo eh lo sento abbiamo perso pure noi ok dai tutti a destra sono dai avanziamo Ale ci sei arrivo Alex arrivo eh dammi un secondo uno sta qua eh bravi tenitelo d'occhio il tank regà l'altra sta qua Luca stai guardando la porta davanti si è certo sto io qua ok ma tu mi guardi sinistro oppure no? io sto guardando dove vedi appoggiato eh ma io sto scoperto di qua cazzo Alex in mezzo guarda lì devo stare a terra così copri tutto stavo a coprire io la me ci metto io copro tutte e due entrate dai eh ma c'è scoperto qui però non ti preoccupa mi metto in una posizione migliore vai io vi guardo a sinistra a sinistra a sinistra dopo lo scopo alla destra questi video non avanzano più si casano sotto era prevedibile una cosa che diceva hai riuso il drone? si ah c'è vai si cazzo si si ma vi avviso si si ma vediamo nel caso non vorrei che uno facesse il giro a sinistra a sinistra prima non c'era nessuno controllo io controllo io perché nel caso Alex vorrei sportare da qui e fare il giro a destra capito? ma non lo so ragazzi se mi vuole restare il tank il tank è il più pericoloso la torre di ricognizione è online tanto sicuro la sentinella si è piazzata nell'angolo a sinistra cioè verso qui secondo me è interno a livello stanno fermi eh si certo il tank era a destra e l'occhio alle spalle ragazzi sta luce di merda di mezzogiorno non fa vedere un cazzo fuori eheh 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 go oh che dai un cazzo questa luce oh porca rucca no che c'è la mano resta no a do va e sta sentinella piazzata ma voi me è pentadurre no fin quando non abbattiamo la sentinella in che buscerei porca uccano ma dov'ai uscere qui uscere qui vale di qua uscere di qua e poi girare a destra largo però dobbiamo aspettiamo che si riprende lo scout cosa no anche se no ne dobbiamo fare almeno uno aspettiamo lo scout secondo me mi ha marcato la sentinella va beh si cazzo occhia e spalle quelli hanno fatto il giro e occhio qui bella lui bella adesso se vuoi andiamo che era la sentinella si 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 spingiamo spingiamo regà voi per me potete pure entrare dentro la casetta e chiudetevi con le mine si si prendete la posizione alla ragazzi prendete la torre ieri alex avanziamo voi piazzatevi in casa piazzatevi in casa tanto ormai la sentinella è andata a lui dove è che l'hai ucciso e ora lo rianimano col medico dove è che l'hai ucciso aspetta io sono io sono marcato eccolo eccolo qui ok ora ragazzi bisogna cazzo la mina qua il drone è partito dietro di noi comunque dai canto ci possono fan cazzo io continuo a essere mancato eh pure io fermati rimani fermo rimani fermo che cazzo è possibile non c'è il drone il binocolo pure a me c'è un binocolo c'è dai minchia ragazzi vedi pure a me mi mancano io prenderei la torre porca puttana non lo so ancora presto a te a te porca puttana no prende sta torre rega dai 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 aspetta aspetta bruno che a bruno porca puttana compa dai 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 spingiamo spingiamo dai una mano da una mano dai 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 che ci vuole usciamoli usciamoli sta scappando uno dai vai vai manca l'ultimo è una qui una qui una qui una qui con quale ho fatto fuori la sentinella è andata hanno fatto il giro e perciò delle impatti l'ha detto bene alex guardatevi le spalle sono passati vanno piano piano ma ti guardava bene chi ci arrivano le vedi dietro non li vedi giù in fondo che dici arriviamo passano passarla non fa niente se noi siamo tutti a 4 vicini ma che c'è fanno poi mi metto mano lessa per la torre eh no cazzo ti ho colpito di roncio no no lascia ma metto io vai 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 metti quello ragazzi spottate all'inizio perché se spottate capiamo chi cazzo su e ci possiamo muovere però spottate di me avete fatto lo screen alla foto io no io so che c'è stata tutta la partita dai abbiamo il nostro bianco forza mettiamoci al lavoro poi si registra casomare dai non c'è bene Alex veloce vai dai stiamo giocando bene dai attenzione drone nemico ma si deve io entro in casa ciao col cazzo mi prendi faccio pure di bella l'hanno usato per me il mortaglio stanno tutti dietro là usciamoli fa molte e quattro fermi a dove fanno laggiù tutti e quattro eh lo so ma ci devi arrivare però avanza avanza lui è da me avanza avanza ecco una sinistrale dove mettimi il segnale dove si schiaccia le x2 due qua due qua sul tronco dov'è quella sinistra luca senti 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 a me giocare dai Alex dammi una mano dai questo tranquilla raga raga me a destra sono libero non me lo nessuno adesso si 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 l'altra è qua in fondo l'altra è qua in fondo l'altra è qua in fondo dai altri oh non muore oh non muore oh non muore oh usate il drone se vuoi ma f*** cazzo sto morendo io dai dammi una mano Alex non ho energia Alex braaaavo vado a curare io ragazzi non ho energia vai 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 io li tengo qua sott'occhio aspetta certo poverissimo state attenti al medico eh si si ma pusciamo ragazzi ma pusciamo si infatti quanto manca per la torre eh Alex pusciamo io e te dai io sono andato trenta secondi no ma hai deciso quei due sì io dici secondi c'ha il drone il mortaio Ale visto visto c'era uno ah no sei tu me lo manda a me il mortaio no vado con il drone eh io prenderei io sono marcato medico medico carlo il medico da te carlo tutto cazzo fatto fatto dai rip e dov'è il medico? è stato a ste parti occhio dai ragazzi uno qua arriva eccolo l'artigliere chiudiamolo Carlo Ale chiudiamolo Ale beh lo tengo distratto eh dai bravo vado in torre brava prendete la torre 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 dai oh che cazzo oh che cazzo eh lei me l'ha sottosto davanti dai che manca il medico non lo pusciamo dai dai sta aspettando che si ricarica guarda vai 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 uno che rimane sulla torre uno per rimane sulla torre uno per rimane sulla torre è le cremor oppure no non mi ricordo si ma io te sto dietro dai te sto dietro lui oh non gli hai fatto il saldrone no no non l'altro non ti va qua tu vai sui ah vabbè tanto sei vicino dai 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 ci siamo ci siamo sposta 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 che ce l'ho sposta che ce l'ho sposta che ce l'ho sposta che ce l'ho ce l'ho ce l'ho dai Ale chiusilo dai Ale chiusilo uuuuuh che è che sta laggata uuuuuh che è che sta laggata ma che è ma che è ma rega mi finisce mi finisce dai dai ci siamo ci siamo dai rega questo laggata schifo lagga oh e muoori oh porca puttana oh 800 punti hai visto quella laggata che ha fatto se te le trasportava in una maniera assurda oh porca puttana oh dai 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 bravi bravi oh tutte e sette cazzo ma che ho preso che stai a dire va bene va bene dovremmo vincere altre due eh oppure ne vinciamo uno e ne pareggiamo no le vinciamo tutte ok vai va bene che sono ste cagate è giusto è giusto è giusto è giusto è vero ma giusto tutto tutti a destra allora siamo sempre avanti cale io centrale si ok vai attenzione manca uno ragazzi eh eh non lo vedo però vanno tutti a destra come prima l'assalto sarà per forza è quello che manca contatto fisico interrotto il tank è già qui eh eh sì 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 qui mi avanti qui si mi pushano ragazzi sicuro proprio qui si pusheranno come una merda falli pushà falli pushà noi abbiamo posizione in questo momento siamo in vantaggio il tank mi vedo gli altri due qua lo sparà avanza il tank eh si sa fa il giro si si fagli fa il giro vogliono sfondare a sinistra se vuoi greciare qualche mina ma lei eh non è sbagliato ancora non lo so tipo nei prossimitati che vuoi salvidone che cazzo ne so mi tiene una sola torre però se esci presto sarai la macchamata la macchamata la macchamata la macchamata la macchamata ma io che mi marca porco zio ti marcano chi mi marca Ale? non lo so e allora ti marcano da qua Ale? questo è il suo sentinello ce l'avete ma io vorrei provare a prenderla va porca uno qua nei cespugli sdraiato beh vuoi riprendere di nuovo la sentinella se ce la fai eh infatti ti allarga vedete andiamo lui vai 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 però potremmo andare a prima cazzo mi è finito il drone vai vai ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo timi 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 che ce l'abbiamo timi che ce l'abbiamo finito finito io poi ce l'abbiamo shhh che male fa l'avvicinale ha visto visto lui segui me l'hai visto? dov'è? segui me vai 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 buona bravo minchia che cazzo di occhi che c'era dai siamo di nuovo in vantaggio lo si eh si ma la lecura ah cazzo metti la hit dov'è? cazzo la mina bruce eh no no regalo non lo ritroveremo mai stava proprio a mezzo all'erba ok stava proprio a mezzo all'erba come prima se venite qua io provo la torre beh aspetta anche con eh aspetta fammi vedere se riesco a sbattare qualcuno vale eh carlo vuoi dire un attimo qua? devo dimentico le parti dove parti tu eh lui? eeeh più o meno si vabbè l'ha curato dai vai è andata è da fap subito eeeh lo so che facciamo Ale? in cui ne c'è spugli ma lo spoti un attimo eh Carlo non sei riuscito eccolo sono riuscito al teo proprio proprio preso dai andiamo a prendere sta cosa su dai dai aspetta è bru aspetta a te Luca no aspetta a Luca sì sì arrivo arrivo dai dai 2 minuti in direzza cazzo di due e chiudiamoli dai intanto ci hanno circa 30 secondi per beccare sta cazzo di ci sei Lu? eeeh aspetta sto arrivando ooooh cazzo ho fatto attacca essa prova a fagli il giro dai aspetta che te lo spot aspetta vai 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 carlo vai carlo ora 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 uno qua il tank granata prendi questo guarda guarda lì nooo Riggs cura lo Rus curano il volo così lo fanno vai carlo c'era quello bravo 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 Alec bravo l'altro qua Alex bravo Alec vai tu Alec vai Luca resta un nemico dai l'altro qua lo tengo lo tengo finilo 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 come la aga sta merda porca troia è sempre quello di prima eh si si minchia come la aga porca puttana oh poi vinciamo un'altra e abbiamo vinto giusto si si vabbè giochiamo tutti e sette credo che giocheranno no? no 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 non si può giocare tutte e sette finisce ma noi dobbiamo dare dimostrazione agli altri squadri che abbiamo vinto 7 a 0 per una volta c'è Luca per una volta c'è Luca che hai detto scusa? ah io ero con l'artigliere borsa la vostra volta a visero un po' prima quando mi rianimo giusto così perché stavo guardando Alec guarda lui guarda Alec vabbè se me lo dici un po' prima me l'ha detto vai Luca ti ho rianimato posso in mezzo a 3 di noi ma Kang l'ha sfermata Kang l'ha sfermata eh eh lo so cazzo ma me lo devi dire preparare così mi vedo intorno cosi? abbiamo il nostro obiettivo forza mettiamoci al lavoro 4 a 0 così no infatti non spingiamo troppo rimaniamo di nuovo sul centro e chiudiamo quattro lì perché non è ancora vinto eh vinto o rimanete vicino a me che se mi fa il mortaglio mi rianimate ok dai ma io avanti eh dobbiamo avanti da noi ci hanno l'assassino eh eh poi io lo prendo bravo vabbè non ti ha toto un cazzo dai vabbè non ti ha toto un cazzo dai vabbè non ti ha toto un cazzo dai ce l'avete qua eh? oh addirittura io mo lo puscio a questo cazzo c'era un altro stai entrando in casa stai entrando in casa lo vedo lo vedo eccolo Cazzole, ce l'ho qui Gli altri due sono qua sotto la torre Sono sotto la torre Uno è entrato in casa Uno è sopra di voi l'assassino Sopra di voi E sì, calma, calma Buona, guarda dov'è Non hai sparato Un tonto di un caso Eh beh, certo, ci sta Aspettate che lancia una granata Aspettate Alex prima che ti faccio a te Aspetta 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 che botto una flash Oh, regà, ma che sta Ma guarda tutti a quello Che cazzo Ma c'è il culo, cazzo Ale, sei pronto? Sì, sì Quello ancora lì E ancora sopra? Ma vado a prendere i Eccolo, cazzo Ancora rotto il cazzo, va Mi cammino le mine Ma lo fai Fa cacare, va Hs, boom Minchia, un salaregistro Questo ho fatto un Hs spettacolare, eh Bravo 1, 1, 1 Che non me l'ha andato? 1, 2 Quanto ho fatto? Minchia Bravo Dai, così si gioca, eh Non è che... Vai con lo screen sul gruppo, vai Ahia! Che numeri! Ale, riesce a fare la foto Oh! C'è Aspetta, io intanto salvo il cosa La partita, va? Come si fa? Clip video? Bella, dai Allora, c'è uno nella live Mi ha scritto Tua zia è morta Viva la patata Allora, c'è uno nella live